Fino a due settimane fa il prodotto introvabile per eccellenza era il gel igienizzante per le mani. Ora invece le aziende sono riuscite a incrementare la produzione e il prezioso disinfettante si trova in quantità anche generose soprattutto in farmacia, a prezzi non proprio popolari ma tutto sommato nemmeno esorbitanti rispetto al solito. Ciò che invece sta diventando, anzi è diventato introvabile, è l'alcol denaturato, il classico alcol per disinfettare, rosa, con quel profumo forte che penetra nelle narici. Un prodotto che abbiamo sempre trovato senza problemi e a prezzi irrisori, oggi è diventato davvero difficile da reperire. Molti supermercati non riescono a rifornirsi in tempo. Ma questo non è l'unico prodotto introvabile tra le corsie dei negozi. Il lievito, per nulla importante nella prevenzione del contagio rispetto all'alcol, sta diventando altrettanto raro. La quarantena ha portato molti cittadini a sperimentare il fai da te in cucina, in particolare con impasti di pizza, pane e dolci. Il lievito è introvabile ormai da giorni. Prima è finito quello fresco, poi anche quello secco e di conseguenza scarseggia pure la farina. Alcuni supermercati sono addirittura arrivate a imporre un limite massimo di pacchi di farina acquistabili da ogni singolo cliente. Il lievito invece è finito ancora prima che i supermercati contingentassero l'acquisto.